Filippo, vogliamo spiegare il senso e l'importanza di questa iniziativa? Cosa accadrà il 5 giugno? Sì, il 5 giugno ci sarà una gara, tra virgolette, di pesca alla plastica per un'attività di sensibilizzazione non solo dei diportisti ma di tutta la cittadinanza, anche perché il problema della plastica negli oceani è ormai il fenomeno di inquinamento importantissimo, poco conosciuto e poco valutato. Ci sono 8 milioni di tonnellate di plastica che finiscono negli oceani ogni anno e quindi è come versare un camion di rifiuti al minuto in mare. Quindi la gara consiste in una giornata di raccolta di plastica con barca, vela, gommone e motore e poi il pomeriggio ci sarà la premiazione. La gara è aperta a tutti, bisogna iscriversi all'astonautica per la partecipazione e poi ci sarà ovviamente questa inorganizzazione all'interno dell'evento nazionale organizzato dalla FIPSAS, della Federazione della Pesca e Attività Subacue. Alle 18 del 5 ci sarà la premiazione ma soprattutto un'attività, una grande festa, un'attività di sensibilizzazione alla problematica dell'uso della plastica sempre più responsabile. Iniziativa questa fortemente voluta dalla FIPSAS? Assolutamente sì, la FIPSAS oltre ad essere una federazione del CONI è anche un'associazione di protezione ambientale quindi abbiamo colto anche al balzo tanti motivi, il fatto della giornata per la protezione dell'ambiente non ultimo anche il fatto che Pescara è bagniera blu recentemente quindi abbiamo sponsorizzato insieme agli amici dell'assonautica questa manifestazione a Pescara la seguiremo soprattutto con le imbarcazioni quindi sarà una pulizia di superficie mentre visto che questa manifestazione è inserita anche nei giochi del mare che si terranno a Vasto a Vasto nella stessa giornata sarà più un qualcosa che riguarderà la subacqua per esempio il bellissimo territorio di Punta Derci a cui daremo speriamo una mano anche da questo punto di vista della pulizia ambientale per quello che potremo fare.